Un esordio di grande successo, quello del cantautore Pago al Teatro Massimo di Cagliari. L'artista di fama nazionale si è esibito nella sua città per portare uno spettacolo dove il palcoscenico ha rappresentato la metafora della vita attraverso canzoni e monologhi che hanno parlato di sogni e aspirazioni. Purtroppo c'è tanta gente che è demoralizzata, non ha tanta voglia, però i sogni esistono, ce li abbiamo tutti, bisogna solamente cercarli e portarli avanti. Così come il titolo del suo spettacolo, Pago è stato il vero protagonista della scena, ma con lui ad intrattenere il numeroso pubblico presente a teatro, una big band internazionale e la straordinaria partecipazione dell'artista Ubaldo Pantani. Uno show con la regia di Gabriele Cossu, che sicuramente, come aveva annunciato Pago ai nostri microfoni, non si fermerà a Cagliari, ma proseguirà con altre tappe in tutta Italia. Abbiamo intenzione di portarlo in giro per tutta l'Italia ed è sicuramente un nuovo inizio, come posso definirlo. Per me è che mi cimento in teatro, mi cimento con la parte mia d'attore che non avevo ancora provato a fare su un palco del genere.